benvenuti benvenuti cari amici siamo bit in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordati distruggi votare like, iscrivi il canale, iscrivi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di bitcoin ma non solo anche di altcoin in particolare cardano, ftx, polygon, binance e infine tesos per cui iniziamo subito perché jack dorsey ok si è sposto all'interno della conferenza ok indetta da microstrategy ok proprio su bitcoin addirittura lui sostiene ok che bitcoin andrà a sostituire il dollaro ora non lo so però sicuramente quello che può essere vero è che tantissimi piccoli paesi si stanno muovendo verso bitcoin per staccarsi ok dal dollaro e l'abbiamo visto che sostanzialmente con el salvador quindi che cosa penso che avrà in futuro tantissimi altri piccoli paesi andranno ad abbracciare bitcoin fino a quando non arriverà la mass adoption in questo momento bitcoin insieme a 36.300 dollari che cosa sto osservando al momento che abbiamo dei minimi crescenti ok giornata di oggi la stiamo chiudendo sostanzialmente in rosso però è appena iniziata e ora sostanzialmente dobbiamo rompere il muro dei 38 mila dollari dovessimo romperlo attenzione perché bitcoin torna bullish sostanzialmente bitcoin sta lateralizzando da circa il 22 ok di gennaio per cui sono quasi dieci giorni però a me al momento la situazione non mi preoccupa ok in tanti gridano ancora il bear market secondo me stiamo avendo una risposta tra l'altro facendo anche un piccolo paragone che con quello che successe a luglio avevamo testato che sostanzialmente i 30 mila quindi tangente alla verde successivamente la lateralizzazione che durò circa un mesetto per poi prendere e ripartire quindi potremmo vedere ancora uno scenario di questo tipo riprodurre questo movimento secondo me alla peggio ovviamente bisogna considerare sempre ipotesi peggiore e poi prendere ripartire anche se secondo me attenzione perché bitcoin ci sta dando dei forti segnali bullish ora la notizia molto importante quella che riguarda cardano perché sono stati aggiunti altri 100 smart contract pensate in due giorni e cardano sostanzialmente è passato da circa mille smart contract agli attuali mille e cento per cui si sta svolgendo un ottimo lavoro per quanto riguarda cardano in particolare hanno aumentato le dimensioni del network di circa l'undici per cento e quindi cardano sembra voglia fare della scalabilità il suo cavallo di battaglia al momento siamo a un dollaro e 02 quindi sostanzialmente abbiamo questo supporto su un dollaro e attenzione perché questo per me dal mio punto di vista considerando anche quello che attualmente il prezzo bitcoin se bitcoin ha fatto un bottom a 33 mila dollari secondo me un dollaro su cardano è sostanzialmente il suo bottom tra l'altro stiamo osservando che cardano sta lateralizzando per cui attenzione ok naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli trading però guardando quella che è la struttura ok di cardano se andassimo ok a riprodurla può essere molto interessante anche in ottica di area speculativa dal mio punto di vista cardano non è una coin speculativa perché da anni che esiste e sta performando però per chi piace fare questi trade può essere molto ma molto interessante ora andiamo a dare uno sguardo a ftx perché secondo me si propone come uno dei principali nuovi exchange insieme a binance credito.com io ci aggiungerei anche ftx che ha una capitalizzazione di quasi 6 miliardi tra l'altro i numeri le stanno dando profondamente ragione anche perché sostanzialmente ftx compie un'importante azione che è andata a acquisire sostanzialmente liquid group ok per la sua espansione in giappone e hanno chiuso pensate un accordo da 400 milioni di dollari per cui si stanno davvero espandendo tanto attualmente il prezzo di 41 dollari abbiamo volta mai a 85 dollari secondo me questo exchange sta veramente dando vita a un qualcosa di incredibile qualcosa simile a crypto.com stanno già sponsorizzando all'interno dell'nfl ok quindi vedremo che cosa succederà in futuro però secondo me può essere molto ma molto interessante ovviamente andate a vedere anche sempre l'alcoindex altra notizia molto importante ok che prada e adidas lanciano lanciano sostanzialmente i propri nft su rete polygon e vorrei vedere anche con voi quella che l'azione di polygon al momento siamo 1.49 anche qui sostanzialmente siamo usciti ok del trend ascendente ok di lungo periodo siamo all'interno di un trend discendente però a me l'azione che sta svolgendo polygon che sostanzialmente non mi preoccupa anche perché per quanto riguarda gli nft la rete polygon sostanzialmente non non avete delle gas fee avete gas fee sostanzialmente bassissime e per questo secondo me è un progetto che che nel tempo continuerà a performare ora vorrei vedere con voi una notizia molto importante che riguarda sostanzialmente binance è una delle star ok dell'nba jimmy butler sostiene che binance è il principale exchange ok esistente e i suoi rivali ftx e crypto.com non riusciranno mai a sconfiggerlo dico la verità da una parte sono anch'io convinto di questo anche se crypto.com sembra stia per chiudere o che un accordo con l'nfl addirittura per sponsorizzare il super bowl per cui potrebbe essere una delle prime volte in cui non sarà binance a sponsorizzarlo ma scusate ma crypto.com vedremo che cosa avverrà in futuro quello che è certo è che come potenziale anche crypto.com ha un maggiore potenziale ok rispetto a binance data comunque la capitalizzazione del mercato che è molto ridotta però dal mio punto di vista ok binance oramai è un colosso con i suoi 61 miliardi di capitalizzazione e penso che la action che ha avuto nel corso del tempo lo stia dimostrando e secondo me è quello che credo le crypto diventeranno un giorno il dominio più pubblico di mass adoption e penso che binance rimarrà il principale exchange esistente infine volevo andare a chiudere con tezos ok perché sono sensibilmente aumentate le transazioni e anche le attività sui suoi smart contract soprattutto anche tezos sta lanciando una campagna nft assurda che quindi potremmo vedere presto in effetti che riguardano non solo reti ethereum solana e poligon ma anche tezos e potete vedere qui che attività ok quanto sono aumentate le transazioni su tezos nell'ultimo periodo e infatti il prezzo diciamo lì sta dando ragione anche qui abbiamo avuto una crescita esponenziale al momento tra l'altro l'unica coin che è contro tendenza ok sulla giornata perché sta aumentando la sua crescita e quindi attenzione l'unica cosa da pagare su tezos è la volatilità quindi se voi come vedete qui è un trend comunque rialzista con minimi crescenti e potenzialmente questa può essere un'ottima area d'entrata ok per quanto riguarda un eventuale trade ovviamente non solo nei consigli finanziari nei consigli trading però come vedete può essere davvero ma davvero interessante infine andiamo a chiudere con questa notizia perché google sta osservando ok di aiutare lo sviluppo del web 3 come sapete il web 3 capitalizza veramente pochissimo al momento è il fatto che google comunque voglia investire interno del web 3 potrebbe andare a favorire tantissime altcoin che al momento sono all'interno del web 3 ricordiamo ad esempio hive o anche file coin per cui vorrei sapere anche da voi che cosa ne pensate ok delle attività che sta svolgendo google se avete in particolare qualche altcoin all'interno del web 3 che secondo voi potrebbe performare ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro e gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone like di iscrivervi canale e ci riamo presto Grazie a tutti.